Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è scoppiata la passione. I due non riescono più a trattenersi. Oltre alle coccole e ai baci giorno e notte, davanti alle telecamere, adesso i due si sono spinti oltre. Come mostrato dalla diretta del Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio si sono chiusi nell'armadio per alcuni minuti. Le telecamere li hanno inquadrati per pochissimo, salvo poi spostare inquadratura in un'altra parte della casa più spiata d'Italia. Gli autori avevano intuito qualcosa volevano evitare di trasmettere in diretta un presunto rapporto sessuale tra i due. Secondo i beninformati, Cecilia e Ignazio avrebbero fatto sesso orale nell'armadio. Come raccontato da alcuni utenti, che hanno assistito in diretta alla scena, si sono visti Cecilia inginocchiata e Ignazio coi pantaloni leggermente calati. I due, però, si sono chiusi all'interno dell'armadio della casa così da non essere visti troppo. Una passione incontenibile. Ormai Cecilia Rodriguez non teme più per il suo rapporto con Francesco Monte, noto per aver partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Tra Ignazio e Cecilia è amore alla luce del sole. Proprio alcuni giorni fa aveva fatto discutere la scelta dei due concorrenti di nascondersi dietro ad una tenda nel confessionale, Cosci hanno fatto in quell'occasione.